allora un attimo che devo salutare anche quelli che ci seguono su facebook in diretta allora eccoci qua buongiorno a tutti su tante le cose che dobbiamo fare al mattino alle 7 dobbiamo essere belli pronti preparati concentrati voi lo stesso perché insomma importante uscire di casa sapere le notizie essere informati e non fare brutte figure con il vicino di casa che magari pensa di saperne più di voi invece voi dite no io ho visto la rassegna stampa di farlo tv e hanno detto questo e allora cominciamo con il santo del giorno buongiorno ancora il san buonaventura il sole è sorto alle 5.39 tramonterà le 20.49 adesso andiamo a vedere subito il tempo anche oggi ci affidiamo alle previsioni della protezione civile delle marche che per la giornata di oggi prevedono un cielo sereno poco nuvoloso ma niente precipitazioni domani invece il tempo peggiora rovescio temporali nelle ore centrali e pomeridiane più probabili sul settore centro meridionale e poi la giornata di sabato quindi fino a settimana con piogge sparsa prevalente carattere di rovescio temporale improbabile esaurimento nel corso della serata il tempo sarà brutto anche nelle giornate domenica e lunedì ma siccome abbiamo tante notizie oggi da farvi vedere allora andiamo subito da cristiano boni il nostro bagnino di turno questa settimana da bagna azzurra torrette di fano buongiorno buongiorno come va questa mattina bene bene già c'è l'aset che è passata come vedete ha dato una pulita si sono accumulate un po' di alghe per via del mare che ha fatto questi giorni perché si muove sempre un pochino al pomeriggio però io so che quando il mare è mosso il beneficio dell'ossigenazione del mare è notevole insomma il mare ha bisogno anche di essere agitato qualche volta no? certo è importante ma attenzione perché quando il mare è agitato crea anche qualche pericolo in più per i bagnanti soprattutto quelli inesperti allora ieri ti avevo anticipato questa domanda che vorrei oggi tu alla quale rispondessi ma in modo velocissimo allora se ci giriamo un attimo sull'acqua con il telefonino ecco lì possiamo vedere ci sono delle scogliere no? ci sono delle scogliere che chiaramente non sono unite non formano un'unica linea ma ci sono degli spazi tra una scogliere e l'altra ecco tra quegli spazi si nascondono a volte dei pericoli ce ne puoi parlare in maniera molto semplice allora la costa sì molto velocemente la costa adriatica è caratterizzata da queste difese che sono per comunque gli stabilimenti quindi la spiaggia che abbiamo davanti cosa succede che quando c'è il mare mosso l'acqua che tracima sopra gli scogli e in mezzo entra dentro un bacino che prima o poi deve uscire quindi crea una corrente dalle scogliere fino alla riva che prende sempre più velocità e esce dai varchi che sono in mezzo quindi chi si trova lì in mezzo mi pare di capire che rischia la corrente sostanzialmente rischia di essere trascinato dalla corrente chi non è molto esperto poi prende paura e quindi rischia di annegare quindi attenzione tra una scogliere e l'altra poi naturalmente ci sono altre situazioni che si possono venire a creare come per esempio le buche che scavano sotto proprio queste correnti che riportano quindi scavano e lì la sabbia può essere come dire uno può essere tranquillo dice tanto qui tocco ma in realtà in quei punti si rischia di non galleggiare prende sempre più velocità e ci porta all'esterno quindi il consiglio è non rientrare se dovesse esserci questo fenomeno aspettare magari all'esterno quello che potrebbe essere qualche soccorso perché comunque siamo vigili a quello che succede in mare quando comunque c'è il mare mosso e quindi non provare a rientrare assolutamente dentro perché la corrente è molto forte e come detto te ci sono delle buche create dall'acqua mai nuotare contro corrente ok questo è quello che succede andiamo a vederlo a volo Riccardo ecco fa un po' paura questa cosa ma insomma per farvi capire che c'è questa buca che si forma grazie allora grazie mille e cristiano ci vediamo domani va bene grazie a voi buona giornata a tutti buon lavoro intanto vedete la qualità dell'acqua da sufficiente diventa buono rimanendo in tema migliora il voto dell'ARPAM per il tratto di costa da Pesore a Fano monitorati 173 chilometri della regione nella fascia 500 1800 metri dunque un litorale sempre più invitante quello pesarese e fanese secondo appunto le analisi di ARPAM sia dal punto di vista ecologico che chimico ma adesso andiamo a vedere le prime pagine cominciamo dal Carlino di Pesero ospedali, seri, scatena, la guerra la giunta regionale cambia il piano sanitario il sindaco di Fano all'attacco per il Santa Croce è l'inizio secondo il sindaco di Fano è l'inizio della fine a centro pagina Green Pass, no grazie, muro dei titolari un danno se servirà per entrare al bar oppure al ristorante andiamo a vedere la pagina invece di Ancona la normalità dei campioni continuiamo a parlare di Mancini in fila dal Salumiere a Iesi come uno qualunque in mattinata la visita anche alla mamma ricoverata in ospedale l'ite sul Green Pass invece discrimina baristi e ristoratori si dividono sul modello Macron il presidente francese Acquaroli dice subito di no la libertà prima di tutto benedetto Acquaroli scuola a distanza, che disastro il titolo invece è d'apertura del Corriere Adriatico le prove invalsi infatti confermano l'arretramento di preparazione degli studenti marchigiani la didattica a distanza è un incubo diplomati hanno conoscenze da terza media presidi e prof interroghiamoci sulla strategia da scegliere poi Vangi lo scultore abbellirà piazzale Matteotti mentre i sindaci intervistati dal Corriere Adriatico oggi sul Green Pass tra tutti Ricci che dice incentivo a vaccinarsi e per lui dunque il modello Macron è un modello positivo poi sul ritorno dell'Isippo le speranze dal Senato la Commissione Cultura approva una risoluzione sulla restituzione dei nostri beni su sultodi positivi numeri bassi le marche nel vivo dell'estate scoperti 60 nuovi casi ma era tutto nel sentiero già previsto dagli epidemiologi nell'Ascolano 18 contagi 16 nel Pesarese l'incidenza è a 14,9 dunque possiamo dire che il quadro è sotto controllo da 15 più o meno a 50 ce n'è di strada da fare e non la faremo bar e ristoranti muro contro il Green Pass meno clienti più costi come controlliamo le barricate dei titolari Poletti del pasta e pizzerice all'ennesimo disincentivo per la categoria e una lesione delle libertà personali e poi c'è però una voce fuori dal coro Gabriele del Barredi io invece sono favorevole un modo per tutelare anche noi dipendenti e si discuta a livello nazionale appunto di questo pass da attivare soprattutto per incentivare le persone a vaccinarsi un pass per i trasporti e per lo sport il governo accelera sulla stretta vedete quello che ipotizzavamo qualche mese fa si sta avverando l'ipotesi è di imitare solo in parte la Francia restrizioni anche per partecipare ad eventi non invece per bar e ristoranti il ministro di Forza Italia dice dobbiamo trovare una via italiana per incentivare la popolazione a iniettarsi il siero il provvedimento potrebbe arrivare già lunedì Salvini però si oppone Parigi non è il modello è benedetto Salvini anche tu allora virus il farmaco della speranza a Marche Nord qui siamo di nuovo sulla pagina locale del Carlino siamo a pagina 5 l'azienda ospedaliera quindi Marche Nord prima in Italia inizierà una sperimentazione con l'inositolo in collaborazione con il professor Bizzarri della Sapienza la chiamano la molecola della speranza scrive Benedetta Iacomucci sul Carlino di questa mattina è questa molecola perché sarebbe in grado di ridurre la proteina che favorisce il virus in pratica nebbisce la cosiddetta tempesta citochinica che è alla radice della polmonite interstiziale caratteristica del coronavirus la molecola in questione è l'inositolo e presto partirà una sperimentazione proprio nell'azienda ospedaliere Marche Nord la prima in Italia non solo è stata data notizia ieri durante il convegno scientifico che si è tenuto a Fano alla Pinacoteca San Domenico cui ha partecipato appunto anche il professor Mariano Bizzarri professore di patologia clinica e del dipartimento dell'università La Sapienza di Roma mentre qui sotto stanze sanificate in 15 minuti in reparto un robot a ultravioletti un macchinario è stato fornito gratuitamente dalla Commissione Europea intanto il bollettino come dicevamo poco fa 60 nuovi casi sale l'incidenza ma diciamo che negli ospedali la situazione è ancora assolutamente normale tranquilla ora restando in tema di sanità sul Corriere Adriatico così come sul resto del Carlino le dichiarazioni di serie che a quanto pare ha perso la pazienza e dice ci date un ospedalino questo ospedalino sarebbe il Santa Croce il sindaco va in polemica con la regione Marche dice ho saputo dalla stampa il nostro destino accuse sull'incontro mancato con Acquaroli che però replica e chiede al sindaco una strada istituzionale in che senso il sindaco di Fano ha cercato in via informale prendendo il telefono insomma chiamando ad Ancona o anche nel numero privato il governatore Acquaroli questo numero Acquaroli non ce l'aveva memorizzato come sindaco di Fano quindi non lo ha riconosciuto e non lo ha dunque richiamato ed è per questo che fa sapere che questa telefonata non ha avuto in qualche modo seguito non c'è stato modo di sentirsi tra i due ma che invita il sindaco Seri quando si parlano due istituzioni come il comune di Fano e la regione ad usare le vie istituzionali quindi con la carta fare la richiesta di un incontro in modo tale che poi anche i posteri sapranno quello che hanno fatto fra dieci anni Seri a Fano e Acquaroli per le Marche quindi Salta Martini con i medici a Fano spiazza tutti Marche Nord non si tocca e sarà potenziata quindi per quelli che volevano affossare l'azienda ospedaliera Marche Nord è arrivata la doccia fredda di Salta Martini l'assessore regionale che ieri ha detto Marche Nord non si tocca e sarà dunque potenziata superare il modello dell'ospedale unico il titolo a pagina 4 del Corriere del Carlino la Salta Martini porta una delibera che stacca Fano da Pesaro e apre la nuova stagione basta con l'accentramento dei servizi il progetto per Pesaro andrà avanti ma con meno posti letto e i tempi si allungano giocano sulla pelle dei fanesi per il Santa Croce è l'inizio della fine la rabbia invece del sindaco di Fano Seri è evidente che in questo modo dice Seri con una struttura da 400 posti contro i nostri 200 il nosocomio pesarese diventerà l'unico punto di riferimento della provincia Seri parla di accordi al ribasso proprio quando noi vogliamo salvare la struttura Tarsi e Manocchi aggiungono proprio lui che firmando nel 2018 ha trasformato le corsie in un ambulatorio cambiamo argomento i carabinieri hanno arrestato quattro egiziani che sfruttavano i loro connazionali dove in un nel lavaggio negli autolavaggio caporalato ogni giorno lavoravano 12 ore senza fare riposo un anno di indagini che ha portato appunto all'arresto di quattro egiziani turni massacranti di lavoro salari da fame quindi stipendio paghe niente riposi zero contributi e un alloggio fatiscente da condividere in comune un turnover elevato perché a quei ritmi dopo un po' i lavoratori ovviamente gettavano la spugna l'hanno chiamato operazione car wash perché riguarda quanto succedeva in un autolavaggio di Fano zona Bellocchi dove dopo un anno di indagini i carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia codiuvati dai colleghi dei comandi provinciali di Peso Urbino Latina e Ravenna hanno eseguito quattro arresti per caporalato e queste sono le immagini sia del car wash appunto dell'autolavaggio che della conferenza stampa che si è tenuta ieri per illustrare i dettagli di questa operazione ancora cronaca sulla pagina del Corriere Adriatico spray al peperoncino in faccia per derubare l'anziana in casa un colpo in via Ferraris le ladri sono due donne che svuotano la cassaforte e poi carabinieri che ritrovano un cagnolino sordo e malato ancora da Fano il ritorno dell'Isippo passo avanti al via la nuova fase del contenzioso la commissione cultura del senato approva la risoluzione sulla restituzione dei beni culturali mentre per piazza Marcolini nel cuore del centro storico di Fano la soluzione è togliere il parcheggio la proposta della lupus in fabula per il bellissimo scorcio del centro storico i nuovi schiavi dell'autolavaggio il Carlino di Fano quattro arresti egiziani accusati di caporalato hanno sfruttato per almeno due anni una trentina di connazionali con turni di 12 ore e paghe da fame secondo i carabinieri i gestori avrebbero dovuto sborsare 387 mila euro serve un'assicurazione per Sauro Sauro è il pensionato che è stato visto tinteggiare la ringhiera del Ponte Rosso insomma a fare cose che avrebbe dovuto fare il Comune di Fano ma è stato bloccato è stato bloccato qualche settimana fa Giorgio Ricci che è referente dell'associazione Ristor Italia lancia una sottoscrizione dice beh se serve un'assicurazione perché no gliela possiamo fare noi insomma spero di trovare un accordo con l'assessore Brunori poi premiata l'eccellenza dei produttori oleari posto d'onore al Cecchi mentre dalla Valmetauro questa è la fotografia del cumulo di rifiuti a due passi da Rio Secco rifiuti pericolosi anche abbandonati c'è anche l'amianto una circostanziata denuncia dei consigliori di minoranza di Cartoceto porta in evidenza tutta questa situazione che davvero è anche pericolosa poi sempre su questa su questa vergogna giustamente come la definisce il Carlino questa mattina c'è anche l'articolo di Franceschetti Lucrezia ecco la discarica della vergogna la minoranza di Cartoceto segnala l'isola di sporcizia a pochi passi da Rio Secco ci sono anche rifiuti pericolosi bisogna dunque intervenire le guardie ecologiche volontarie della regione hanno fatto un sopralluogo ancora dalla pagina di Urbino catturati e trasferiti 20 cinghiali cosiddetti cittadini il sindaco Gambini annuncia la fine dell'operazione di bonifica da ungulati nelle vie che stanno intorno all'ospedale di Urbino ora c'è solo il repellente sono stati ultimati i lavori siamo pronti dice il sindaco ad accogliere nuovi ed importanti eventi poi l'ondei accusa risonanze magnetiche esaurite per il 2021 ma a pagamento beh come sempre a pagamento si trova tutto la rotonda compie la rotonda è quella di Senigallia 88 anni ma niente festa il sindaco Livetti dice ora dobbiamo regare dritto non possiamo avere migliaia di persone in piazza domenica non è stato un bello spettacolo quindi se la prende un po' anche con i festeggiamenti per la vittoria della nazionale il sindaco che insomma sembra essere davvero tutto d'un pezzo senza senza fare tanti giri intorno voli pindarici insomma è molto pragmatico da quello che mi pare di leggere anche dalle dichiarazioni ma a proposito di festeggiamenti continua per il mancio che è tornato a Iesi anche per stare vicino alla famiglia per stare vicino in particolare alla mamma che è stata ricoverata qualche giorno fa in ospedale pane salame Mancini dal trionfo alla spesa il CT torna nella sua Iesi tra selfie e fila la fila al negozio alimentare ma soprattutto la preoccupazione come dicevo per la mamma ricoverata per un malore mentre sulle pagine questa è la pagina di Iesi del Corriere in coda per la spesa con il CT campione grazie Iesi che splende d'accoglienza dice Mancini i saluti con i vicini di casa di Villa Fabbro il caffè da Zoppi e poi due passi in corso Matteotti dove tra l'altro ha incontrato anche un'altra Iesina illustre vale a dire l'imprenditrice Roberta Fileni la vedete qui con Susanna messaggio molto noto della televisione perché almeno l'età mia insomma che da qualche tempo cura con la sua agenzia le strategie di comunicazione del gruppo agroalimentare quindi la Fileni un Mancini circondato insomma di azzurro e ha salutato anche ieri appunto tante persone non si è mai sottratto alle fotografie insomma ieri dicevamo anche di questa di questa fede si parla del Mancini devoto del Mancini fedele e allora vi segnalo anche questo trafiletto c'è stato un momento della mia vita dice Mancini in cui dopo essermi allontanato dalla chiesa sono tornato per capire mi sono più volte recato a Meggiugorie e ho parlato con i veggenti una di loro proprio Visca che vedete nel tondo qua sotto mi è anche apparsa in sogno poco prima che la incontrassi la fede è parte integrante della mia vita e restando sempre in tema calcistico e qui di fede ce ne vuole tanta perché il Fano non sta andando un gran che bene l'orizzonte è ancora molto offuscato alleanza per la serie C Fatò Fidani che è il presidente uscente o comunque l'attuale presidente e Russo che è colui quell'imprenditore che potrebbe dare una mano potrebbero appunto unire le forze per rendere più concreta la candidatura di Granata tanti nodi da sciogliere dalla posizione della casertana che se è in difficoltà ed esce potrebbe far risalire appunto il Fano alla modalità di riammissione usata nel 2016 l'imprenditore casertano ovvero Russo è pronto ad entrare in campo ma potrebbe anche farlo al fianco del vecchio patron quindi al fianco di Fatò Fidani e anche qui sul Carlino l'alma sta per passare di mano qui le notizie sono un po' diverse Russo già a Fano per la firma quindi il Carlino invece dà per scontato l'uscita per scontata l'uscita di Fatò Fidani l'imprenditore campano attivo nel campo sanitario deciso a chiudere l'affare sperando per lui che sia un affare e quindi per prendere in mano la società Granata mentre la Vispeso racquista un'ex promessa dalla Juventus Pellizzari è un difensore già a Torino a 17 anni poi infortuni vari ne hanno compromesso il valore ora manca una punta poi tutto il ritiro a Chianciano Stefano Sensi invece dà un calcio al celibato e dunque l'attaccante dell'Inter nativo di Urbania si sposa sabato 17 ad Ostuni con la sua compagna Giulia Amodio il giovane calciatore Durantino e la sua promessa sposa sono insieme da oltre 5 anni e vivono da tempo a Milano e allora auguri ai novelli sposi noi ci fermiamo qui vi do appuntamento questa sera con l'informazione delle 20 e 30 al telegiornale per tutte le vostre segnalazioni come sempre vi ricordo che c'è il nostro numero diretto 338 4968 250 grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti